Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di The Sims 4 Torniamo nel nostro pet shop che come vedete ho arricchito con alcuni quadri che ha fatto la nostra visa Perché voglio racimulare tanti, tanti Simoleon per comprare il negozio, come vi avevo detto, a Magnoia Promenade Quindi in realtà ci proviamo Intanto vediamo un po' com'è il nostro negozio Abbiamo 410 punti, abbiamo un sacco di clienti Tanto che io andrei a salutare un po' tutti Perché come vedete sto utilizzando entrambi proprio per cercare di ottimizzare i tempi Intanto vediamo un po' come si comportano Vedo che tanti provano i nostri abiti Vedo il bambino interessato al capolavoro, grazie mille Ecco, comprate pure i quadri E ce ne sono davvero tanti Sta di fatto ragazzi che ovviamente questo negozio è molto molto piccolo Quindi non voglio mettere ora tutta la collezione che abbiamo Questa e anche quella dei pupazzetti Ma li metteremo nel prossimo negozio Quindi vediamo un po' come si comportano intanto Se è qualcuno che mi compra qualcosa Chiedi dell'autore preferito Non mi interessa Facciamo ancora negozio Anche perché vi ricordo che ad una certa arriverà il critico Che non conosciamo Dobbiamo stare attenti perché credo faccia dei gesti Quindi compilerà il suo inventario Quindi da lì capiremo che dobbiamo convincerlo Quindi chiede la fascia di prezzo Perfetto, stiamo chiacchierando un po' con tutti Lo facciamo anche con lei, quindi concludi l'affare Lei che è fiduciosa Vediamo un po' se riusciamo stavolta Ok, vediamo un po' Lei ha un po' di fame Un po' a disagio Speriamo funzioni Riusciamo a convincerlo? No, per niente Eh vabbè, allora facciamo negozio Rispondi alle domande Dai Ed ecco qua la prima ragazzi Che scelta che convenienza La bambina che vuole la lettiera Quindi andiamo a servire la cliente Grazie Vediamo un po' di riuscire Chi dà la fascia di prezzo Ovviamente io punta i quadri ragazzi Perché sono le cose che ci fanno guadagnare di più Rispondi alle domande Anche del bambino Quindi rispondiamo un po' a tutti Che scelta che convenienza Pausa, fermi tutti Spero mi compri il quadro Quindi serviamo il cliente Anche se credo comprerà questo per i giocattoli Eh, vediamo un po' Intanto la bambina ha comprato la lettiera Per 262 simoleon Grazie mille Noi continuiamo a Vediamo un po' Chi dà la fascia di prezzo Così vediamo un po' Nuova cliente La salutiamo Che scelta che convenienza Scherzavo Dobbiamo per forza occuparci di questo cliente Quindi serve il cliente Grazie Lei intanto si prova gli abiti Pare essere convinta Cosa ha comprato il bambino di Bello? Ha comprato il robo per i giocattoli Scommettono il quadro E infatti per 225 Dai, ci sta E intanto tu continua a rispondere alle domande Così almeno Cerchiamo di convincere più persone possibile A comprare Negozio Rispondi alle domande Lui ha Appena speso 600 simoleon Molto bene Altre scelte Negozio Rispondi alle domande Mentre con te Io direi che possiamo fare un bel saluto al cliente Altre scelte Concludi l'affare Proviamoci con lui E salutiamo anche lei Proviamo anche con lei Concludi l'affare Perché prima o poi dovrebbe anche funzionare Se anche farlo così Al volo non pare essere il caso Infatti dobbiamo credo Un pochino Instaurare un minimo di rapporto Per farlo Comunque discutiamo delle preferenze d'acquisto Dai Io volevo concludere l'affare subito Ma come vedete Impossibile Perché appunto Ci sta che Ci debba essere un minimo rapporto Su non mi compra niente Vediamo un po' Chiedi della fascia di prezzo Chiedi della fascia di prezzo Un po' a tutti Complimento sincero No Direi che possiamo rispondere Alle domande Dai Vedo però che La sua barra è bella bella alta Probabilmente riusciamo a vendere qualcosa a lei Vediamo un po' Dobbiamo solo avere un po' di pazienza E pian piano concluderemo gli affari E infatti Che scelta Che convenienza Lui si avvicina qua Probabilmente comprerà Il completo Da ragazzo A tema animali Credo proprio di sì Eh perché non l'ho visto Diciamo guardare il quadro Quindi probabilmente Comprano queste robe Che ci sta ragazzi Per una cosa Sono contento di vendere Gli oggetti E non solo i quadri Eh però Vediamo un po' Di capire cosa Comprano Tanto lui sta continuando A chiacchierare Facciamo ancora un bel Rispondi alle domande Appena acquistato Infatti il vestito E sarei anche già messo Guardate un po' Nuovo cliente ragazzi Nuovo cliente Allora aspettate Diciamo a lei Di salutarlo Se riusciamo Saluta il cliente Grazie Come va Salve 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 Discuti delle preferenze D'acquisto Altre scelte Negozio Chiedi della fascia di prezzo Tanto lei sta anche Andando in bagno E abbiamo però Già venduto 1349 simoleon Di roba Le bollette però Arrivano Che bello Quando meno Te l'aspetti Dai cerchiamo Di vendere qualcosa Lei mi sembra Bella pronta A comprare Quindi aspettate Che andiamo da lei E cerchiamo di convincerla Altre scelte Negozio Facciamo discutere Le preferenze D'acquisto Perché lei ha la barra Più alta Dai Fra un po' compra Quindi aspettate Che facciamo rispondere Alle domande Altre scelte Negozio Chiedi della fascia di prezzo Lei invece mi pare Molto molto Interessata ai quadri E allora rispondi Alle sue di domande Vediamo un po' In tutto ciò Allora hanno un po' Di bisogni Un bel po' Di bisogni in realtà Anche perché siamo aperti Da 7 ore Quindi Hanno ragione Mentre lei Eh si Rotulina Di nuovo Probabilmente lei compra Un altro vestito uguale Come nello scorso episodio Ok lei ha la barra piena Riusciamo a Niente Va via Perfetto Volevo concludere l'affare Proviamoci con lui Che ha una buona barra Vediamo un po' E non ce la facciamo Eh Purtroppo si Io ci provo Ma non va Intanto però Lei deve andare in bagno Quindi aspettate Che la mandiamo Almeno in bagno Può uscire Grazie Ok Perfetto E scelta che convenienza Andiamo da lui E stavolta ragazzi Pare essere interessato A un quadro Quindi ce ne approfittiamo Lo serviamo Molto bene Lei invece è una nuova cliente Risponde alle domande Arrivano Vanno Vengono In realtà C'è un gran ricarico Di sim Risponde alle domande E rispondi Alle domande Se anche lui Fra un po' Lo mandiamo in bagno Perché sta per crollare E invece no Ha comprato un altro Perfetto Da 300 Un altro contenitore Di giocattoli Per animali Per fortuna Almeno arriva il rapporto Sui diritti d'autore Ragazzi Però al momento Non stanno comprando nulla Lei mi sembra Interessata Le ciotole Vediamo un po' Quindi cerchiamo Di rispondere A tutte le domande Oh che scelta Che convenienza Eccola qua Servi il cliente Assolutamente Forza Elisa Grazie Spero sia interessata Al quadro Mentre lui Se è fatto la pipì addosso Non importa E allora Continua a chiedere Quindi in realtà Facciamo negozio Rispondi alle domande Dobbiamo anche Uccarci dei loro bisogni Lo so bene Ragazzi Però vorrei Almeno Vendere qualche quadro Se riusciamo Tanto ho acquistato Un abito Va bene Salve Ecco cerchiamo Di convincerla Molto bene Facciamo altre scelte Negozio Risponde alle domande Altre scelte Negozio Discuti delle preferenze D'acquisto Se anche c'è Una cliente Da servire Che non vedo Eccola qua Perfetto Si sta avvicinando Dovrebbe comprare La struttura per animali Quindi Alessandro Grazie So che sei stanco Ma servimi pure La cliente E infatti ha comprato Il condominio per gatti Che comunque vale Perché Stiamo già vendendo Più di 2000 Simoleon Quindi ci sta Ci sta Certo è che se comprano 3 o 4 quadri In realtà Vendiamo molto di più Però Ci sta anche Che ogni tanto Comprino gli oggetti Normali In tutto ciò però ragazzi Siamo aperti Da 14 ore Quindi in realtà Direi che possiamo Chiudere il negozio Io continuerò Probabilmente A tenerlo aperto Per un bel po' Abbiamo anche un po' Di punti extra Se anche al momento Direi che Possiamo aspettare Prima di comprare Qualche tratto E soprattutto Ragazzi Continuerò Magari a fare Qualche altro quadro Da appendere Nelle pareti Perché come vedete Abbiamo tutto lo spazio Per farlo E continuerò A vendere Quando avremo I simoleon Giusti Diciamo Compreremo Un altro negozio Ovvero Quella San maishuno E torniamo E torniamo a casa Della nostra Erika Perché vi spiego Un po' Di robe Quindi andiamo Grazie Abbiamo anche un bel po' Di simoleon E torniamo a casa loro Dobbiamo pagare anche qua Le bollette Oggi è una giornata Molto molto strana Quindi aspettate Che paghiamo l'affitto Molto bene I due ragazzi Devono andare Assolutamente a scuola Ne approfitto anche Per vedere un po' I suoi tratti Ovvero quello random Che non sappiamo qual è Visto che È passato d'età A casa dei nonni Quindi vai pure E vediamo un po' Com'è questo bambino Ah ma l'aria aperta Ok Ci sta Ci sta Invece il neonato Come sta Il nostro piccolo Gabriele Eccolo qua Ora ve lo faccio vedere Un po' meglio Intanto che succede Profumo di puzzola Per essere vicino Un animale Appestato da una puzzola Eh Non credo sia lui L'animale Probabilmente È uno dei nostri E infatti Credo sia proprio Zeus Sai quali Facciamo un bagno Molto molto veloce In tutto ciò ragazzi Mancano sette giorni Al passaggio d'età Mentre per quanto riguarda lui Mancano sei giorni Mentre lui è molto molto più Giovane E infatti Intanto però Facciamo il bagno a Zeus Così almeno siamo tranquilli Vediamo un po' Mentre lo lava Grazie Molto bene E ragazzi Ci sono stati dei problemi Problemi perché Il nostro caro Manuel Continua ad uscire Dal suo Come dire Dalla sua urna E purtroppo Lei ci ha provato Quindi lui si è arrabbiato Eccetera eccetera Possiamo liberare lo spirito Nell'aldilà Ma ragazzi Io ho costruito Nello speed building Il cimitero Proprio per un motivo Quindi ora Ci mettiamo l'urna E lui sarà il primo sim Che vedremo Intanto però Voglio capire Un attimo Da qua Riesco a capire qualcosa Vediamo un po' In quale è tornata a casa Con un progetto Molto bene Molto bene Voglio capire Come siamo messi Con i gatti E con i cani Perché ragazzi Manca poco Anche alla dipartita Dei cani E dei gatti Io in realtà Intanto guardate un po' Beh direi che possiamo Intanto asciugare questo Quindi ragazzi Non so bene Se aspettare O se forzare La mano Perché Cap Minerva E Zeus Sono con noi Da troppi episodi I bambini sono cresciuti E non è credibile Il fatto che i gatti E i cani Siano ancora vivi Per quanto mi dispiace Devo dirla tutta Quindi dobbiamo capire Un po' di robe Intanto lui però Ha il pannolino sporco Direi che possiamo anche Allattare E poi calmare Così almeno poi Dormirà il nostro piccolo Gabriele Il nostro alieno E soprattutto ragazzi Com'è un bebè alieno Sapete che non ricordo Probabilmente non l'ho mai visto In una serie Perché In realtà Quando hanno implementato Gli alieni Io non ho O meglio Quando hanno implementato I bebè Scusatemi Io non ho mai visto Gli alieni Quindi sarà curioso Anche scoprirlo Tanto però Lui sta bene Perfetto Possiamo fare un bel coccola Al nostro bambino Sì Così almeno si addormenta Eccoci qua Bravo Così E a questo punto Lei dovrebbe stare Relativamente bene Anche lui Ha solo un po' di fame Direi che possiamo Aspettate Intanto voglio scendere Un pochino qua giù E ne vedo già qualcuno Perfetto Aspettate Ditemi che è un capolavoro Eccellente Acquista il dipinto Oh Si è sbloccato Sì ragazzi Ci sono dei bug ogni tanto Ad esempio questo Esatto Lo posso solo acquistare Alcuni invece Li posso mettere Nell'inventario Probabilmente Li abbiamo No In realtà Li avevo già venduti Comunque non importa Ragazzi E anche il tramonto Direi Sono quasi le 17 Direi che è l'ora Perfetta Per raggiungere Forgottenolo E dire Addio Tra virgolette Al nostro Manuel Finalmente E ci andiamo Ovviamente Con lui Perché lui È la chiave di tutto In realtà è stato lui A vendicare Se vogliamo Grazie a lui Che abbiamo vendicato Manuel Quindi è giusto Che la nuova coppia Vada nel cimitero E metta la rapide Di Manuel Quindi ragazzi Sì Arriviamo Al nostro cimitero Di Forgottenolo Intanto Gabriele È stato mandato All'asilo E dove mettiamo Gabriele Intanto Questi due Come vedete Sono particolari E saranno Credo Le tombe Di Chiara E Luca Che sono i primi sim Ecco perché Li ho voluti fare Un pochino più belli Diciamola così Con questi archi Mentre per quanto riguarda I figli Abbiamo diverse possibilità Qua come vi ho detto Ho lasciato degli spazietti Per mettere le urne Quindi potremmo mettere Qua tutti i figli Quindi Chiara Manuel Jacopo In futuro Alessandro Elisa eccetera Intanto il festival Disaster Distrarsi in città Quindi sapete cosa Magari qua mettiamo i figli Magari i nipoti Eccetera eccetera Poi anche qua Abbiamo un sacco di spazio Abbiamo anche la zona Degli animali Quindi sì Possiamo fare tante belle robe E intanto il bambino Che compra Tutte le belle robe Del negozio E qui Ragazzi non vedo più l'urna Intanto possiamo mangiare Un tramezzino Di formaggio grigliato Visto che lo abbiamo Eh ragazzi Ci siamo persi l'urna Possibile che sia tornata A casa Vediamo un po' Ma no eccola Perfetto L'avevo data A lui Allora ragazzi Direi che possiamo Cominciare da qua Vedete che qua c'è lo spazio Dai direi che Lo mettiamo qui Manuel Il nostro primo sim Morto Della serie Ecco qua Riposa pure in pace Manuel Direi che possiamo Anche Incidere l'epitaffio Perché no Riposa in pezzi È bellissima Come dedica Però Direi che possiamo Chiamarlo Qui giace L'eroe Del tempio Della giungla Se ci sta eh Ok Vediamo un po' Qui giace l'eroe Del tempio Della giungla Il nostro Manuel Rafforza la connessione Col mondo fisico Anche perché si sta Lentamente affievolendo No facciamo un bel lutto Per Manuel Ci sta E qua abbiamo un sacco di robe Ora torniamo a casa E capiamo un po' Come Sfruttarle Quindi veniamo qua Lo so che sarei triste Ma devi per forza Esatto Dire addio a Manuel Eccolo qua Lo so Lo so Magari possiamo venire anche qua Eh ho fatto i percorsi apposta Quindi vediamo un po' Se lei ci sta Basta piangere Grazie Vediamo un po' Ma in realtà no Non possiamo Ecco Qua ci arriva Qua ci arriva No perché ho messo troppe piantine Però comunque siamo abbastanza vicini Dai E qua ragazzi possiamo anche Beh Imposta colore intensità Io farei tutte le luci Bianche Grazie Ecco Così mi piace di più Come effetto Un po' più spettrale Quindi ragazzi Abbiamo dato Una sorta Una sorta di sepoltura Direi che possiamo Venire qua insieme E magari fare una preghiera Per il nostro Manuel Perché no Lui è già arrivato Aspettate che deve andare in bagno E allora lo mandiamo in bagno Eccolo qua E anche lei deve andare in bagno Mentre lui Mentre lui no Lui è tutto una gioia E intanto Mentre chiacchierano Pensano a Manuel In realtà lui Beh intanto la consola L'abbraccia Poi facciamo anche un bel Consola Se riusciamo Empatizza No Perché poi diventiamo anche noi tristi Consola per la morte Assolutamente Diciamo che lui Fa un pochino Beh ha un bel po' di tatto Visto quello che sta succedendo E direi che possiamo chiedere Di diventare La nostra fidanzata Il capitolo Manuel Ormai è concluso E guardate un po' Lei quanto si è ripresa in fretta Ma vedo va allegra Mi dicono E qua ragazzi Nella cappella Del cimitero Proponiamo Le nozze A Erika ragazzi Eh sì Credo proprio che Questa cappella Sarà un luogo Particolare Per loro Lui si inginocchia E lei accetta Oh perfetto Perfetto Guardate un po' Ok Direi che il capitolo Manuel L'abbiamo concluso Davvero Stavolta Tanto che ragazzi Questi due in realtà Si sono presi Molto molto velocemente E credo proprio Che fuggiranno Immediatamente Quindi ragazzi Sì Nella cappella Del cimitero Di Forgottenolo In mezzo ai vampiri In mezzo a tutto quello Che succede Guardate un po' Questi due Si stanno sposando Da soli In segreto Se vogliamo E ragazzi Sì Direi che Questo è l'unico Finale possibile Ho pensato Di organizzare il matrimonio Ma l'avevamo già fatto Quindi qualcosa di Strano E non mainstream Era sicuramente Sposarsi in una cappella Lugubre In un quartiere Altrettanto Strano Direi che Ci mancava L'appello Che cerimonia Splendida Eh sì Tantissimo Tantissimo Aspettate che Festeggiamo Assumi un organista Perché no Eh ragazzi Non ci ho pensato Potevamo assumere Un organista Che suonava Fin tanto Che ci sposavamo Beh Possiamo sempre Far pinta Che lo sta facendo Quindi eccoci qua Puoi far trasferire I tuoi sim Grazie Sta arrivando il sim Per il servizio Di organista Aspettate però Che io qua Ho il panino Che posso dare a lui Eh sì Perché comincia La comunione Dei beni Quindi in realtà Cominciamo già A condividere I tramezzini Pronti Eccolo qua E mangialo pure Grazie Eh ragazzi Un organista Di tutto rispetto Il conte Vladislaus In persona Ok Sussurriamo Dolcemente Questo è Bellissimo Come momento Dai Lui probabilmente Sta dicendo Dal suo orecchio Smammiamo Perché altrimenti Questo qua Ci mangia Però ragazzi Nell'inventario Del nostro Jacopo Abbiamo La stessa Reliquia Che ha Chiara La reliquia Di Tote Calama Che possiamo Combinare Credo Con un cristallo Che noi abbiamo Abbiamo quelli Energizzanti Quindi se io ne do Uno a lui In teoria Dovrei poter Combinare No Perché prima Devo mandarlo Eh sì Dobbiamo farlo Prima a rifinire Quindi magari Lo possiamo fare Ascoltiamo Per un attimo La musica Spettrale Del conte Vladislaus Ma direi Che possiamo Tornare A casa Dopo aver Sepolto Manuel E aver Cominciato A riempire Salve Facciamo così Vai qui insieme Ci chiacchieriamo Amichevole Abbraccia Perché si Perché comunque Rimane suo marito Eccetera Eccetera Se riusciamo Anzi Chiama da te Vediamo un po' Chiama da te Grazie Vediamo un po' Se funziona Eccolo qua La cosa si sta Complicando Ragazzi Quindi facciamo Come vi dicevo Altre scelte amichevole Un abbraccia Ciao Grazie Sai che mi sono Appena sposata Sì Prima che loro Guardate un po' La relazione Facciano dei passi falsi Io direi che possiamo Fare Un bel Malizia Spaventa Cos'è quella macchia No In vita A una finta festa No Vorrei in realtà Restare migliori amici Quindi vita Per restare Per la notte No Possiamo fare Un amichevole Che Dell'essere morti No Io vorrei separarmi Anche perché Vabbè In realtà Aspettate Che relazione Ho con lui A questo punto Coniuge Deceduto Mentre lui È coniuge Vivente Oh beh Ci sta E infatti Come vedete Non ci sono più Interazioni Come dire Romantiche Se anche lui Se la prende Con il lavandino Per trovare pace Quindi una bella Notte brava Luna e 08 Con il conte Vladislav Che ci sta suonando Qualcosa di carino Lui che sta rompendo Il bagno della cappella Del cimitero spettrale Dove vi ricordo Abbiamo seppellito L'ex marito Mi sembra un quadro Perfetto Per questo episodio Sentite un po' La musichetta Ok ragazzi Abbiamo fatto Abbastanza danni Però abbiamo messo Un punto Alla storia Che avevamo Quindi sono contento Di questo Direi che possiamo Tornarci a casa Da sposati In un luogo Molto molto bello Davvero Che non vorrebbe Sposarsi In un luogo così Ma direi che possiamo Tornare a casa Guardate un po' Tutti stanchi E direi che Ci sta Ci sta Abbiamo fatto qualcosa Di assolutamente Strano Intanto Gabriele è tornato Dall'asilo Noi stiamo Calpestando il gatto Fatti avanti Difendi il tuo amico Ok Aumentata la Risoluzione Dei conflitti Sveglia cap Animali di s'instagram Ma si dai Facciamo una bella foto Fatta la foto Molto bene Ok Possiamo anche uscire Sì Perfetto E ragazzi Siamo tornati a casa Siamo tornati a casa Con tutte le ciotole vuote Aspettatele Super felice Minerva E ragazzi Ve l'ho detto Pausa Che episodio Ragazzi Che episodio Ok Vi avevo detto Che i gatti Io volevo forzare la mano Ma non ce n'è bisogno Perché È arrivato il momento Minerva ha raggiunto La fine della sua vita E ora andrà A stare in un posto migliore Vediamo un po' Come funziona La morte Anche Dei gatti O meglio Anche degli animali Quindi vediamo un po' Loro saranno molto molto tristi È stato davvero Un episodio Felice per il matrimonio Ma triste Volevo dare un mix Delle due cose Però non immaginavo Morissero gli animali Subito Quindi vediamo un po' Eh Sono tutti tristi Sono tutti tristi Ragazzi Sono tutti Tristi Eh sì Guardateli un po' Eh lo so Lo so Ora Cap non ricordo È anziano anche lui Il cane invece no Se non ricordo Zeus Non l'ho fatto Passare d'età Però arriva la morte Anche per gli animali Ok Va bene Controlla un po' La lista E purtroppo sì Molto ispirata A una giornata Perfetta Che si è trasformata In una tragedia Perché ci siamo liberati Di Manuel Ci siamo sposati In segreto Intanto sto notando Che il water è sporco Ma siamo pronti A perdere anche gli animali Ragazzi Ve l'avevo detto Che avrei rimesso Lo scorrere Della vita normale E infatti come vedete Qua mi segna i giorni Perché ho rimesso Proprio la dinamica Perché è arrivato il momento Di cominciare A andare avanti Quindi fare un ricambio Generazionale Che purtroppo Include anche gli animali Ok Ovviamente Facciamo una presentazione Amichevole Zeus è affamato Ecco qua che mangiano Dicevo Non ho implorato la morte Per Minerva Perché è arrivato Il momento Intanto notare L'urna di un gatto Com'è Davvero carina Anche se ora Porteremo anche lei Al cimitero Quindi ragazzi La mettiamo qui Abbiamo una bella lapide Ok Direi che possiamo Farli dormire un attimo Molto bene Anche lui Probabilmente Mandiamo tutti a dormire Se anche non ne hanno bisogno Vediamo un po' L'altro bebè In realtà No Anzi Aspettate Ne approfitto Per fare anche un cambio tattico Già che ci siamo Quindi facciamo così Prendiamo questo E ne mettiamo un altro E mandiamo tutti a dormire Così almeno Passa in fretta L'orario Intanto la morte Si guarda qualcosa in tv Che sempre ci sta Intanto qua abbiamo La presenza della morte Per aver assistito alla morte Voglio capire Se ci sono stati umorali Legati proprio agli animali No Abbiamo gli stessi Che si hanno per i sim Ok Buona sapersi Tanto Zeus come sta Credo sia triste Anche gli animali soffrono Credo proprio di sì Loro però intanto Dai Hanno recuperato un po' C'è qualcosa da mangiare Facciamo un bel Servi colazione Non lo facciamo mai Facciamo magari Uova strapazzate Con pancetta Grazie per tutti Così almeno esatto Mangiamo tutti Perché credo Siamo tutti affamati Intanto vanno a scuola Quindi prima di mandarli a scuola Cerchiamo di fare il tutto Livello 6 di cucina Pensate un po' Ok E facciamo No in realtà Ecco Facciamo un bel chiamatavola Così almeno vengono tutti Grazie E mangiano Perfetto Poi ci occupiamo del bambino Loro due sono a scuola Facciamo un bello studi a sodo Con tutte e due Loro intanto stanno mangiando Molto bene Direi che a questo punto Abbiamo la tomba Nel nostro inventario La tomba di Minerva Eccola qui Torniamo ancora una volta A Forgottenolo Per mettere Anche la tomba Del primo animale Della serie Che abbiamo creato E che purtroppo Ci ha lasciato Quindi ragazzi Sì Ci ritroviamo qui Abbiamo Manuel E stavolta Andiamo giù Di gatto Purtroppo Ora voglio capire Come funziona il tutto Perché io qua Ho anche Le pedane Dove mettere le tombe Quindi ora Capiamo un po' Come funziona Abbiamo qua la tomba Non la posso mettere qui Ok A meno che Sulla terra Non si trasformi Non lo so Aspettate No Così non mi piace La mettiamo davanti Ecco Magari così E ragazzi In lutto Per Minerva Incidiamo anche per lei L'epitaffio Te l'avevo detto Ok non è proprio il massimo La prima Anzi il primo Il primo animale creato Eh sì ragazzi Perché quando abbiamo preso Cani e gatti In realtà è stato davvero Il primo animale Che abbiamo creato Quindi ecco qua L'epitaffio Io però volevo Capire Vabbè ce li teniamo Devo capire Questi come si sbloccano O se sono solo decorativi Non lo so Direi che ci possiamo Fermare un attimo A osservare La tomba di Minerva Per renderle Un po' di giustizia E ragazzi Con questa immagine Vi dico che Per questo episodio Molto strano È tutto Abbiamo finalmente Utilizzato il cimitero Lo utilizzeremo spesso Per tutti i nostri simi I nostri animali Abbiamo utilizzato La cappella Perché dopo aver Lasciato Manuel Ci siamo sposati In gran segreto Solo noi due Ma ragazzi Poi la morte È giunta Anche per il nostro Primo animale Quindi è stato Un episodio Bello e triste Allo stesso modo E direi però Che con queste immagini Ci fermiamo così Io spero che questo video Vi sia piaciuto E se è così Vi invita a mettere un mi piace Iscrivetevi al canale E fammi sapere sotto Nei commenti Che ne pensate Trovate come sempre Quel pulsante Per iscrivervi Altri due video Io come sempre Vi do l'appuntamento Alla prossima Vi dico ciao a tutti